Cercasi persona desiderosa di avere un incontro intimo con le mie ansie, le mie paure, i miei sbalzi d'umore e le mie sfaccettature, che voglia ascoltare le mie tante anime insicure e vivere dentro a quelle giornate noi in cui non ho voglia di uscire, che scioglia le maschere messe per difendermi da quelle sere che ti vengono a cercare con l'unico scopo di farti male, una persona che non mi voglia capire ma mi sappia accettare, una persona a cui poter far vedere la mia collezione di iete fine, una persona che non mi dia risposte ma dica una cosa solamente, è ora di aprire le porte, non lo senti che fuori c'è la felicità e all'improvviso il sole ti sveglierà pian piano e all'improvviso il mondo ti sembrerà nuovo e all'improvviso un sogno ti passerà vicino tu prendigli la mano e inizia il tuo cammino grazie a tutti